Ciao a tutti, sono Paolo Pizzo e mi sto allenando per i prossimi impegni internazionali. Ho un messaggio importante per voi. In occasione delle festinità pasquali, regalate l'uovo di cioccolato dell'AIRP, l'associazione italiana per la ricerca sul cancro. Trovate tutte le informazioni utili sul sito www.aep.it. Io contro il cancro ci sono. E voi? Ciao!